sempre quei libri. Arrivederci. Buonasera amici, sono Antonio Moretta, ho fatto l'industriale per tutta la vita attiva. Da 16 anni faccio lo scrittore di narrativa e sono alla pubblicazione della seconda dozzina di libri. Ora ne pubblico due dal titolo, di fantasia e a piedi nudi sopra i pensieri. Ogni capitolo del libro è una tesserina di un mosaico che si va formando nella mente del lettore e ad ogni romanzo letto è una pietra miliare del pensiero che è il sale della vita. Buona lettura amici. Dottor Valerio Raganelli, questa volta non parliamo di libri, ma lei ci deve parlare di una importante innovazione che cambia il mondo della ricordatura. Sì, sì, è un magnifico congegno innovativo, brevettato, efficace, che si applica sui trattori, gioverà specificamente a far risparmiare molto le aziende agricole e più che mai quelle viticole e frutticole. Quello che vedete sullo sfondo sono le immagini del prototipo già collaudato con successo. Chi la vuole scriva all'indirizzo che appare in sovraimpressione. Allora scrivete pure.